Bruno Gröning dice Dio è il medico più grande di tutti gli uomini, ma lui sapeva anche che noi abbiamo perso l'unione con Dio e lui ci ha di nuovo ricollegati. Attraverso questo collegamento spirituale, ma non vuol dire che adesso giriamo con un cavo, noi riceviamo tutto ciò che Dio dispone per i suoi figli. Non è raro che il circolo degli amici di Bruno Gröning venga invitato a delle fiere esoteriche internazionali o fiere per la salute. Nel decembre 2019 Dieter Häusler e Jurgen Bloch si sono recati a Zagabria per presentare l'insegnamento di Bruno Gröning all'interno della fiera per energie naturali e medicina spirituale della federazione croata. Per molte persone che sono andate a una conferenza del genere come lei, una tale conferenza è diventata il punto di svolta verso il positivo nella loro vita. Il circolo degli amici ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza che Bruno Gröning ha lasciato agli uomini attraverso il suo insegnamento ed è comprovato che ha già aiutato migliaia di persone nel trasmetterlo anche ad altri che sono alla ricerca di aiuto e guarigione. Chi era Bruno Gröning? La cosa interessante è che Bruno Gröning poteva guarire attraverso lo sguardo, attraverso la parola e attraverso il contatto. Nei luoghi dove lui ha operato sono accorsi fino a 30.000 persone della Germania del Sud che non cercavano altro che la guarigione. Lui ha parlato soprattutto della forza divina che ha chiamato Heilstrom e che ogni persona può accogliere in sé. Lui spiegava alle persone che questo Heilstrom può far guarire il corpo. Egli ha riassunto tutte le sue conoscenze in un insegnamento di cui gli amici di Bruno Gröning si occupano e attraverso il quale ottengono risultati incredibili. Quando ho conosciuto la mia attuale partner di vita sono venuto a sapere del circolo degli amici di Bruno Gröning e del suo insegnamento. Ciò ha cambiato completamente la mia vita. A dicembre 2000, dopo un'infezione alle vie respiratorie, senti i forti dolori nel petto che irradiava nelle braccia. Nel 2001, nell'arco di un mese, ho avuto due infarti pesanti e sono stato portato dall'ospedale di Zenitza a quello di Tuzla. Qui mi hanno messo uno stent constatando che soffrivo di angina pectoris. Noi sappiamo che dal punto di vista medico l'angina pectoris è incurabile ma io ho ricevuto la guarigione. Io questi problemi non li ho più. Angina pectoris tradotto vuol dire dolore al muscolo del cuore. Sono già cinque anni che non ho più dolori. Ho avuto quattro infarti. Tutto questo è quello che ho avuto ma ora è tutto sparito. Appartiene al passato. Non dobbiamo andare lontano per trovare l'insegnamento di Bruno Gröning, ma possiamo in ogni momento e ovunque, a casa o con amici, fare Einstein e sintonizzarci con questa forza. Così siamo direttamente collegati con Dio. Nel nostro grande archivio abbiamo raccolto e documentato più di 15.000 aiuti e guarigioni che sono avvenuti sulla via spirituale. Noi registriamo e documentiamo queste guarigioni, facciamo esaminare e documentare da medici queste guarigioni affinché sia veramente accertato che è avvenuta una guarigione sulla via spirituale e valutando se sarebbe potuto avvenire in ogni caso. Il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è una delle più grandi organizzazioni mondiali che si occupano di guarigione sulla via spirituale. E quando ci si trova in un congresso come questo qui a Zagabria, allora si vede quante persone sono alla ricerca. Tutte persone che cercano aiuto e guarigione. Bruno Gröning aveva tante risposte a tutte queste domande. Per questo sento che questo insegnamento è assolutamente attuale e ci accompagna in modo meraviglioso in questa epoca. L'evento odierno mostra chiaramente che esiste una medicina. Non esiste una medicina alternativa, non esiste una medicina convenzionale. Esiste una medicina. Questo viene confermato dalla grande quantità di persone presenti. Siate perseveranti, siate coraggiosi, siate calmi. Credete e fate ciò che vi dice il vostro cuore e ciò che sentite. C'è ancora molto da imparare. C'è una grande necessità di conoscenza. Io sono un neurochirurgo ma sono aperto a questo che io chiamo mondo invisibile. Il mondo e la vita sono pieni di meraviglie e di stranezze. Vi auguro un operare pieno di successo e vi auguro che stiate bene nella nostra città. Tante grazie. Vi ringrazio. Attraverso questo insegnamento di Bruno Gröning abbiamo la possibilità di ricevere la corrente guaritrice divina, lo Eilstrom. E questo Eilstrom è così intelligente che conosce i nostri problemi e dall'unico intento di ripristinare l'armonia. Se adesso vedo tante persone sedute che accolgono questa forza, in seguito potranno raccontare ciò che hanno sentito. Allora per me è qualcosa di molto particolare perché vedo che in queste persone si è accesa una lucina di speranza e di fede, cosicché anche nella loro vita potrebbero esserci risultati. Per il resto della loro vita potrebbero liberarsi da dolori che duravano da 10, 20, 30 anni. Per ognuno di loro questo è possibile. Questo è il bello. Poter dire che nella vostra città esiste già una comunità. Potete andarci, lì potete regolarmente accogliere la forza e un giorno potrete trovarvi qui e testimoniare quale aiuto o guarigione avete sperimentato. Questo chiaramente è una sensazione meravigliosa. Grazie a tutti.